Mille Miglia a Teramo, entusiasmo alle stelle, tanta gente da tutto Abruzzo per le auto da sogno. Cronaca, suicidio a Cologna Paese, in bianchino 25enne si impicca in casa. Bandiere blu, Giulianova, Alba e Martinsicuro non ci stanno e chiedono chiarimenti alla FEE. Teramo, Brucchi annuncia, ridurremo la Tari del 12,5% e chiuderemo la discarica alla torre. Politica, Fratelli d'Italia AN, oggi e domani i big nazionali Alemanno e Meloni in tour in Abruzzo. E per lo sport, Teramo Calcio, l'attacco è da rifondare, tanti nomi in ballo ma ancora poche certezze. Buongiorno e benvenuti alla prima edizione del Tg Primo Piano di Teleponte. Apriamo proprio con la Mille Miglia, la nostra edizione del telegiornale. È stato davvero un successo il passaggio della Mille Miglia a Teramo. Nonostante il tempo in certo, tantissime persone hanno affollato il centro storico per seguire quella che viene definita la corsa più bella del mondo. Non solo le auto hanno incantato ma anche i tanti VIP al volante. Tra i più applauditi il premio Oscar, Jeremy Iron, il servizio. La Mille Miglia incanta i teramani. Dalle 16 di ieri spalti di Piazza Martiri e Corso San Giorgio pieni di gente in attesa della corsa più bella del mondo. Il passaggio dei boli di vecchi e nuovi della Mille Miglia ha infiammato gli spettatori che hanno accolto la manifestazione davvero con un entusiasmo senza precedenti. Beh, è la prima volta che passa la Mille Miglia a Teramo quindi è un evento da non perdere. Per me che sono un appassionato di motori è la corsa più bella del mondo. È proprio un'occasione unica, penso che sarà quasi irripetibile a Teramo un'altra volta la Mille Miglia. Per vederla Mille Miglia. Sono un appassionato di macchine storiche, mi piace la Ferrari. La fantastica freccia rossa di passaggio nel centro storico Teramano nella seconda tappa della 32esima edizione da Padova a Roma ha animato il pomeriggio cittadino con il suo carico di fascino, rumore e colore. Anticipati dal tributo Ferrari e Mercedes 100 esemplari di tutte le epoche delle auto del Cavallino e della Stella d'Argento. I 429 equipaggi dei 435 iscritti hanno percorso le centinaia di chilometri che separano il Veneto dalla capitale abbracciati da due ali di folla, da Piazza Garibaldi e fino ai Tigli. Attraverso il serpente interno al centro storico allestito dal comune, dal Teramo Racing Team, Cast e Old Motors, attivissimi volontari teramani dei motori. Uno spettacolo, insomma, che ha divertito e appassionato con la caccia alla foto e ha un saluto dei tantissimi VIP annunciati al volante. Non ha deluso le aspettative, tra questi l'attore britannico Jeremy Irons, attesissimo alla vigilia al pari dell'altro premio Oscar, Adrian Brody, il più giovane vincitore della celebre statuetta nel 2003 con il pianista Di Polanski. Si è però ritirato per la stanchezza al termine della prima tappa. Irons è arrivato alla timbratura di Piazza Martiri al volante di una splendida Jaguar del 50 e si è fermato qualche secondo di più per rispondere alle brevissime domande dei giornalisti e per farsi immortalare con lo sfondo di Corso San Giorgio prima di ripartire verso la capitale. Sono invece rimasti delusi fans di Brian Johnson, frontman degli ECDC. La sua Jaguar del 53 con il numero 261 è stata inutilmente attesa. Il rockman britannico è letteralmente sparito nel nulla. Mentre applauditi al loro passaggio verso le 21 sono stati Teo Fabi e la coppia Martin, Brendol e Bruno Senna, quest'ultimo nipote del compianto Ayrton della cui scomparsa ricorre il ventennale. Tra i partecipanti è anche la giornalista Rai, Francesca Grimaldi. Benvenuta a Teramo. Grazie. Andando bene? Speriamo di sì, volevamo fermarci un po' ma è impossibile. Un augurio a tutti. Grazie. Un grande successo insomma che fa ben sperare per un appuntamento fisso con la manifestazione definita la corsa più bella del mondo. Ad aprire la sfilata delle auto storiche è stato il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi. Grande soddisfazione è stata inoltre espressa dagli organizzatori. Il servizio. Un entusiasmo stupendo. Davvero Teramo ha risposto alla grande come sempre ad una manifestazione storica per la prima volta nella nostra città e forse magari potrebbe essere anche l'unica. Veramente tanta gente lungo il percorso che applaudiva, che inneggiava queste auto stupende. Davvero Teramo ha risposto alla grande anche perché prima sentivo dei commenti che città importanti come Riccioni invece hanno snobbato questa manifestazione. Diceva addirittura il collezionista di auto d'epoca, uno dei maggiori collezionisti di auto d'epoca, lo speaker di questa manifestazione che lui tra l'altro è di quella zona che nella sua zona questo entusiasmo non l'ha mai trovato. No ma Teramo è grande e sa rispondere in questo modo a manifestazioni di questo genere e sono certo che gli organizzatori apprezzeranno questo grande entusiasmo, questo abbraccio forte che Teramo fa a mille miglia e anche per me assicuro che è stata un'emozione unica entrare con la macchina in mezzo ad un'ovazione di cittadini teramani che inneggiavano a quella bellissima auto, insomma davvero bella, entusiasmante, io ringrazio i teramani come sempre sanno far valere la teramanità e sanno ringraziare chi decide di far passare una manifestazione così importante a Teramo. Nuvolari ne ha fatte diverse di mille miglia sotto l'acqua. Allora si va avanti, mancano ancora tante macchine? Ma tante persone si sono ritirate perché hanno trovato un tempo da cani e chiaramente i personaggi non hanno voglia di soffrire gli attori, i cantanti, anche i piloti qui stiamo aspettando Jackie Hicks e Jochen Mas ma non sono arrivati passati nessuno dei due. Però diciamo che è stata una giornata sicuramente vissuta con grandissimo entusiasmo da Teramo, dall'Abruzzo intero perché ho sentito prima dalle interviste che erano tanti gli abruzzesi proprio partiti da Chieti e da Pescara per venire apposta qui e vedere la mille miglia in Abruzzo e quindi il successo è conclamato insomma per voi che l'avete organizzata e portata qui. Ma il successo non è il nostro, il successo è della città di Teramo. No, signori, qui quello che è stato fatto è stato fatto per Teramo, da tutti quanti. E passiamo ora alla pagina della cronaca. Tragedia a Colonia Paese. Ieri sera un imbianchino di 25 anni si è tolto la vita impiccandosi nella propria abitazione. A ritrovare il cadavere sono stati familiari, inutili tentativi di rianimazione della Croce Rossa di Roseto e del 118 di Giulianova. Quando sono intervenuti sul posto il giovane era già morto. Si spacciava per un carabiniere per entrare negli appartamenti e rapinare le prostitute che ricevevano clienti. L'identità di Andrea De Angelis è stata smascherata dai carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Teramo diretti dalla capitano Nazario Giuliani che hanno indagato su cinque rapine commesse ai danni di almeno tre prostitute cinesi tutte minacciate con una pistola dallo sconosciuto, messe a segno tra la seconda metà di marzo e la prima di aprile scorsi. Le indagini hanno condotto fino ad un 43enne nativo di Ripatranzone nella Scolano già segnalato in passato per episodi analoghi. L'uomo è stato bloccato a Belforte del Chientin, provincia di Macerata, la scorsa notte. Nel suo appartamento sono stati trovati una pistola giocattola ed un tesserino delle forze dell'ordine che si era prodotto in proprio. Nei suoi confronti è stata notificata una ordinanza di custodia cautelare in carcere per rapina aggravata continuata, chiesta dal PM Greta Aloisi e disposta dal GIP Giovanni De Rensis. De Angelis è stato rinchiuso nel carcere di Camerino a disposizione del magistrato in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Ed ora voltiamo pagina. Ieri nella sala consigliare del comune di Giulianova, i rappresentanti dei tre comuni esclusi dal riconoscimento della bandiera blu, e cioè Alba Adriatica, Martin Sicuro e Giulianova, hanno contestato l'esclusione stessa, chiedendo chiarimenti alla FEE perché, secondo gli stessi parametri, non ci si riesce a spiegare il diniego di quest'anno. Inoltre l'assessore comunale di Giulianova Forcellese ha puntato il dito sui fiumi. unici responsabili dello stato di salute del mare. Il servizio. L'assessore Forcellese, dopo Martin Sicuro ed Alba, siamo a Giulianova. Lei ha posto sempre, al di là della vicenda che ci riguarda, l'attenzione sulla cattiva manutenzione dei fiumi. Beh, è l'origine dei problemi della nostra regione, non lo scopriamo certo oggi, è proprio rappresentato dai fiumi e da tutto quello che portano i fiumi. Ci sono tanti aspetti che bisogna considerare e io credo che la via maestra sia quella di lavorare con un approccio come quello del contratto di fiume, che è stato approvato proprio poco più di un mese fa, il 7 di aprile del 2014, per la precisione, e che può rappresentare la soluzione dei problemi. Lì abbiamo affacciato tutte le problematiche che riguardano i fiumi. Siete in grado di dire che in questa vicenda non c'è in Regnelli il depuratore? Io non posso dire nulla. Sicuramente il problema è rappresentato dal fiume, nel fiume ci sono tante sostanze che vengono scaricate, in questo senso intervengono anche i depuratori, sicuramente bisogna migliorare tutto. Sindaco Paolo Camaioni, Martinsicuro, non ci voleva questa notizia? Assolutamente no, non ci voleva però è una notizia che noi non condividiamo nel merito, perché abbiamo già inoltrato le nostre richieste di chiarimento alla FEE, perché tutta la questione legata alla bandiera blu, a nostro giudizio, i parametri che sono la base di questo riconoscimento erano sufficienti per averlo, quantomeno per quanto riguarda la spiaggia di Martinsicuro. Perché pensate di poterla recuperare ancora? Noi ci abbiamo inviato una lettera circostanziata in cui chiediamo quali sono i requisiti che hanno portato all'esclusione di Martinsicuro. No, non la vota, la motivazione, i motivi per cui noi siamo stati esclusi. Io ho scritto una lettera l'8 maggio chiedendo il perché è mancato invito e poi naturalmente se potevano dirci anche i motivi di questa esclusione. Ma questo vibrato che vi passa in mezzo, ma che disastro! Eh, infatti, il problema del vibrato è un problema ormai storico, perché sappiamo tutti le condizioni dei nostri fiumi, ma non solo quello del vibrato, ma forse dei fiumi di tutto a livello nazionale. Ma quello che vi dà più fastidio è lui. Sì, infatti, il vibrato dà fastidio proprio perché, diciamo, fino ad oggi si è forse data poca attenzione a questa situazione. Visite gratuite all'ospedale di Teramo per la settimana mondiale della tiroide dal 19 al 25 maggio. Infatti, si celebra la settimana mondiale della tiroide. Scopo della manifestazione è sensibilizzare l'opinione pubblica ed il mondo scientifico sui crescenti problemi legati alle malattie della tiroide con particolare riguardo all'azione preventiva della iodoprofilassi. In tale occasione, il servizio di endocrinologia della medicina interna del presidio ospedaliero di Teramo effettuerà visite gratuite di prevenzione delle malattie tiroidee. I pazienti senza impegnativa e senza bisogno di prenotazione potranno recarsi dal 19 al 25 maggio presso l'ospedale civile di Teramo al secondo piano presso il servizio di diabetologia tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13. Nella giornata di oggi, sabato 17 maggio alle ore 18, nel Palazzo de Berardinis di Canzano, sarà inaugurata la mostra Canzano si racconta documenti, storie ed immagini delle famiglie di Canzano dal XVII secolo. Saranno premiati invece il 31 maggio i vincitori del concorso pittorico e letterario istituito nell'ambito della quindicesima edizione del Festival Internazionale di Bande Musicali a Giulianova. La cerimonia è prevista al termine della Messa per la Pace che sarà celebrata in Piazza Buozzi alle ore 9.30 dal Cardinale Salvatore De Giorgi con la presenza del Vescovo della Diocesi di Teramo, Atri, Monsignor Michele Seccia e del Parroco Don Domenico Panetta oltre ad altri sacerdoti. Lo stabilimento Onda di Atessa si ferma lunedì e martedì il 19 e 20 maggio perché mancano le forniture. Una nave con 45 container, spiega il segretario Wilm di Chieti e Pescara, Nicola Manzi, è bloccata dal 5 maggio all'ingresso del canale di Suez e porta i pezzi delle forniture. Per questo problema la Onda ha annunciato che per due giorni tutti i 355 dipendenti e i 92 stagionali resteranno a casa. Si tratta dunque di cassa integrazione per mancanza di fornitura dall'Asia e se la situazione non si sblocca in fretta potranno esserci altre giornate di fermo. Presentati questa mattina i candidati Teramani alle prossime elezioni regionali di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Oggi e domani i big del partito Alemanno e Meloni in tour in Abruzzo. In proposito seguiamo il servizio. Conferenza stampa di presentazione dei candidati Teramani alla regione. Ne parliamo con Gian Donato Morra, anche lui è un candidato al Consiglio regionale. Che squadra è? Inizialmente Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Praticamente i candidati del collegio di Teramo. Gianni Alemanno ci aveva chiesto di attendere qualche giorno per la presentazione proprio perché voleva presentarci lui. Ma è anche un'occasione per il candidato all'Europa Gianni Alemanno per scambiare due parole, due idee, per far conoscere i suoi programmi per l'Europa. Stasera chiuderemo la serata dopo essere passati al nuovo circolo di Alleanza Nazionale che abbiamo costituito anche a Silvi. Si chiuderà la serata ad Alba Triatica con tutti i candidati e Gianni Alemanno. E domani giornata con la Meloni in tutto l'Abruzzo che si chiuderà con il comizio a Pescara, il comizio pubblico, ci riprendiamo le piazze, il comizio in piazza Primo Maggi perché voi sapete piazza Salotto non è stata concessa per i comizi elettorali. Quindi giornate impegnative, giornate di incontro con i cittadini ma giornate dove parliamo della nostra idea di regione, della nostra idea di Europa anche perché, come vi siete accorti, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale tiene molto le elezioni europee e altri forse le stanno trascurando un po' troppo. Buon per noi perché noi ci puntiamo molto. Brevemente, qual è l'idea di regione? L'idea di regione è che Gianni Chiodi abbia la possibilità di governare altri cinque anni e di poter governare l'Abruzzo dopo il risanamento che abbiamo attuato noi. Per fortuna questa campagna elettorale ha portato nelle case degli abruzzesi e dei terramani la vera realtà della regione Abruzzo che forse era stata dimenticata fino a qualche tempo fa e in questi giorni c'è il vero dibattito. C'è chi ha fatto e c'è chi promette. Noi abbiamo fatto. Il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi annuncia in conferenza stampa alcune novità in tema di sostenibilità ambientale. A partire dall'anno 2014 vi sarà una riduzione della Tari del 12,5%. Arriveranno due nuovi parchi giochi e verrà chiusa la discarica La Torre. I particolari nel servizio. Conferenza stampa del sindaco Brucchi questa mattina, candidato sindaco per il centrodestra alle prossime elezioni amministrative, per parlare delle attività che ha posto in essere il comune di Teramo sulla sostenibilità ambientale per la riduzione delle tariffe e la qualità della vita. Lega Ambiente ha pubblicato un rapporto nel quale siamo i primi in Abruzzo, i sesti in Italia per il solare termico. Ed è un grande risultato. Abbiamo lavorato cinque anni e il riconoscimento ci viene dato proprio in questi giorni. Per quanto riguarda invece in particolare il porta a porta e l'igiene urbana, noi già da quest'anno ridurremo la tariffa della Tari del 12,5% come il 10% sui cosiddetti servizi indivisibili che lo scorso anno sono andati al governo, noi non le applicheremo e quindi questo porterà già a una riduzione del 10%. Più abbiamo vinto un premio, il porta a porta ha vinto un premio regionale di 300 mila euro che incide circa sulla tariffa per il 2,5%. Con il progetto Vede Lago che metteremo in campo nel corso del 2014 abbiamo un valore atteso di una riduzione totale complessiva di circa il 40%. Tra l'altro il progetto Vede Lago porterà anche una modifica del porta a porta per quanto riguarda proprio il tipo di raccolta differenziata. Sulla qualità della vita presentiamo oggi i due parchi giochi che avevamo in qualche modo promesso. Sono il parco gioco di Via Diaz e il parco gioco di Largo Vonna delle Grazie. C'è l'impresa già che si è giudicata i lavori di Tonino Giocattoli e quindi in qualche modo ci sarà anche questa risposta. Volevo dire anche una cosa a proposito della discarica. Il nostro obiettivo della discarica è quella della chiusura della discarica. Discarica la torre. Discarica la torre. Abbiamo approvato, abbiamo un progetto preliminare approvato di 3 milioni e 300 mila euro. Abbiamo chiesto fondi al governo, non abbiamo avuto risposta. Ci siamo già attivati a livello europeo per vederci lo finanziato dall'Europa. Una cosa che però posso dire è che l'amministrazione comunale rinuncia al ricorso presso il Consiglio di Stato per quanto riguarda il discorso dell'ampliamento. Quello è un discorso oramai morto perché oramai sono passati già 4-5 anni. Però comunque la nostra intenzione è rinunciare definitivamente a questo discorso dell'ampliamento e lavorare invece per la chiusura della discarica perché credo che sia il leale problema. Ci negano anche le sedi dei comitati di quartiere per i nostri incontri. È quello che ha denunciato il candidato sindaco di Teramo per la lista Prospettiva Comune, Giorgio Giannella. Il servizio. Giorgio Giannella, candidato sindaco a Teramo per Prospettiva Comune, denuncia la mancata esecuzione del regolamento prefettizio sulle campagne elettorali. E cioè come si traduce? Si traduce che purtroppo noi pensavamo che abituati in questa città allo parlare a Gimisura invece anche al confronto adesso siamo passati a un livello successivo. L'argomento prefettizio dava le disponibilità e anche l'esigenza da parte del Comune di mettere a disposizione i propri spazi. Ci sono stati negati nel quartiere di Santa Mera e Bitetto sia l'auditorium come il comitato di quartiere che abbiamo scoperto essere oggi inagibile per il terremoto ed è un qualcosa terrificante. E riscontriamo tra l'altro, ahimè, un dibattito in campagna elettorale grazie anche agli esposti di altri candidati sindaci, quelli di 5 Stelle sui manifesti elettorali e di Graziella Cordone che è distante dalle tematiche oggettivamente legate alla nostra città e anche a questa campagna elettorale che diventa difficilissima affrontarla come dovrebbe essere fatta in democrazia. Ma la democrazia è un retaggio del passato e ci è stato negato anche il comitato di quartiere di Villa Pavone che si è riservato la scelta di non ospitare nessun dibattito di candidati sindaci fino a quando invece il sindaco ha telefonato e ha preteso perché gli edifici sono comunali di incontrare il comitato di quartiere e i cittadini di Villa Pavone. Veniamo ora a una nota dell'amministrazione comunale di Nereto. A Nereto si legge nella nota l'ultimo consiglio dell'amministrazione comunale condotta dal sindaco Stefano Minora. Il consesso civico si è tenuto ieri venerdì alle ore 16.30 nella sala Alliende con la completa assenza dei rappresentanti della minoranza. Dopo aver letto sulla stampa la volontà di realizzare un nuovo porto nel vicino territorio di Pineto il sindaco di Roseto degli Abruzzi Enio Pavone ha deciso di lanciare un invito ai candidati sindaci del comune di Pineto alla fine di lavorare insieme al rilancio del porticciolo turistico di Roseto struttura contigua tra i due territori che potrebbe diventare un fiore all'occhiello per le ambizioni turistiche di entrambi i comuni. Il sindaco di Roseto degli Abruzzi invita a tal proposito tutti i candidati a sindaco di Pineto ad esprimersi fin da ora in merito a questa proposta che riguarda il futuro di una fetta importante di territorio. Pagina degli appuntamenti elettorali Dino Pepe nella giornata di oggi alle ore 16.30 sarà a Civitella del Tronto presso il ristorante La Fortezza alle 17.30 a Controguerra presso il ristorante La Pineta 18.30 a Bellante per la presentazione dei candidati alle prossime elezioni regionali alle 20.30 a Martinsicuro presso il ristorante Le Magnoli alle 22.30 a Giulia Nove presso il tasso Alcolico Beer Shop per domenica 18 maggio alle ore 10 a Campli visita al mercato 12.30 a Nereto visita alla mostra Scambio presso l'area espositiva della nuova zona industriale alle 18.30 ad Albadriatica incontro elettorale presso lo chalet Boracà in Lungomare Marconi alle 21 a Nereto presso il ristorante La Goverde alle 22.30 a Teramo incontro con la candidata alle elezioni comunali Tiziana Sistilli domenica 18 maggio a Teramo alle ore 18.30 in corso Porta Romana 115 nella sede elettorale dell'IDV il presidente nazionale dell'IDV l'onorevole Antonio Di Pietro incontrerà i cittadini insieme a Mauro Sacco candidato alle regionali del 25 maggio del 2014 poi veniamo agli appuntamenti di Giorgio D'Ignazio 17 maggio quindi oggi alle ore 16 incontro presso il Circolo Domingo a San Nicolò alle ore 18 incontro ad Albadriatica presso il ristorante Tentacolo alle ore 21 cena a Martinsicuro per la giornata di domani sempre Giorgio D'Ignazio alle ore 17 incontro a Bisenti frazione San Nicola presso il Barra San Nicola alle ore 19 incontro a Campli contrada alla traversa presso il ristorante Il Borgo alle ore 21 cena a Corropoli questa sera a partire alle ore 20.30 Nicola Di Marco candidato alla carica di consigliera alle prossime elezioni regionali tra le fila del nuovo centrodestra incontrerà amici e cittadini presso il ristorante La Fattoria della Nonna sito a Roseto degli Abruzzi in frazione Santa Lucia nei pressi dell'uscita della casella autostradale della 14 di Roseto all'incontro oltre al candidato prenderanno parte il presidente della regione Gianni Chiodi il sindaco di Roseto degli Abruzzi Ennio Pavone il coordinatore provinciale del nuovo centrodestra di Teramo l'onorevole Paolo Tancredi ed il candidato abruzzese alle prossime elezioni europee nelle fila del centrodestra l'onorevole Filippo Picconi Paolo Gatti il candidato all'elezione regionale del 25 maggio per Forza Italia sarà a Giulianova Villa Lempa di Civitella Torricella Forcella e a Pianacce di Silvi per presentare oggi ai cittadini simpatizzanti la sua proposta politica per la regione Abruzzo quindi oggi sarà a Giulianova alle ore 17 con il candidato sindaco presso il Belvedere di Giulianova a Villa Lempa di Civitella alle ore 18 presso l'hotel Miami a Torricella Sicura alle ore 19.30 presso la sala polifunzionale del comune a Forcella alle ore 21 presso la piazza del paese a Pianacce di Silvi alle ore 22.30 presso il ristorante La Collinetta sempre Paolo Gatti invece gli appuntamenti previsti per i prossimi giorni sarà domani domenica a Spiano Morrodoro Villa Ferretti di Atria a Tortoreto mentre lunedì 19 maggio sarà a Tossicia e a Bisenti nella giornata di domani sarà a Spiano alle 16.30 presso l'ex edificio Scolastica a Morrodora alle ore 18.30 presso la Casa del Bicentenario a Villa Ferretti di Atria alle ore 20 presso l'agriturismo Aristea a Tortoreto alle ore 21.30 presso lo stabilimento Sayonara nella giornata di lunedì invece sarà a Tossicia alle ore 18.30 presso la sala conferenze Exmap a Bisenti alle ore 21 presso la sala polivalente del comune lunedì 19 maggio alle ore 21 presso la sala Buozzi in Giulianova si terrà la conferenza organizzativa del Movimento 5 Stelle di Giulianova sul tema d'Italia a Sanità Abruzzese interverranno Margherita Trifoni candidato sindaco a Giulianova Andrea Colletti deputato portavoce Riccardo Mercante candidato consigliere regione Abruzzo Paolo Angelini candidato al Parlamento europeo Abruzzo Civico incontra i cittadini domani 18 maggio a Francavilla al mare la candidata Carla Porcaro sarà al Bar Tennis di Francavilla alle ore 19 con il coordinatore politico Giulio Borrelli il presidente del Movimento Giulio Sottanelli ed il candidato governatore della centrosinistra Luciano D'Alfonso oggi sabato 17 maggio il candidato consigliere delle PD Flavio Bartolini e Giovanni Bachelet presenteranno il libro Idee ricostruttive per la scuola il libro edito circa un anno fa oltre a raccogliere i materiali e documenti del forum politiche istituzionali PD 2010-2012 presieduto da Giovanni Bachelet presenta le 10 proposte del PD per la scuola di domani proposte guida per le politiche sulla scuola del Partito Democratico anche a livello comunale l'appuntamento è a Piazza Verdi presso la sede del candidato sindaco del PD Manola Di Pasquale a Teramo alle ore 18 e 30 Maurizio Brucchi domani sarà alle ore 21 a Sardinara presso l'agriturismo da Lidia lunedì invece alle ore 21 alla Gammarana presso la sede del comitato di quartiere della scuola dei Jacobis martedì 20 alle ore 21 Poggio Cono presso l'agriturismo Le Macine mercoledì 21 alle ore 21 a Villavomano presso il ristorante Corte dei Tini domenica 18 maggio alle ore 18 a Forcelle in piazza Belvedere Manola Di Pasquale incontrerà i cittadini saranno presenti anche l'onorevole Tommaso Ginobble segretario della commissione ambiente alla Camera dei Deputati l'onorevole Monica Gregori commissione lavoro della Camera dei Deputati alle ore 19.30 sarà invece a Nepezzano per incontrare i cittadini lunedì 19 maggio alle ore 18 Manola Di Pasquale e le candidate donne del liste PD e Teramo Cambia saranno presso lo stand elettorale in piazza Martiri per un pomeriggio al femminile con gli elettori in serata la Di Pasquale sarà di nuovo a Villamosca alle ore 21 presso il circolo Bocciofilo per incontrare gli abitanti del quartiere martedì 20 maggio Manola Di Pasquale incontrare i cittadini con l'atterato alto alle ore 21 presso la sede del comitato di quartiere ex edificio scolastico il 21 maggio alle ore 20.30 la Di Pasquale sarà a Piano della Lenta dove incontrare i cittadini presso il bar dei Pini oggi a Teramo il candidato consigliere del PD Flavio Bartolini avrà quindi un appuntamento a Piazza Verdi presso la sede del candidato Manola Di Pasquale alle ore 18.30 mentre il candidato sindaco a Giulianova Franco Arboretti e i candidati alla carica di consiglieri comunali si troveranno domenica 18 maggio dalle ore 10 alle ore 13 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 20 presso il gazebo propaganda elettorale in piazza Fosse Ardettina a Giulianova sempre domenica 18 alle ore 18 nella piazzetta al termine del prolungamento di via Lenievo Angolo via Michetti incontro con i cittadini sempre domenica 18 alle ore 21 a case di Trento presso la ex scuola elementare incontro con i cittadini passiamo a Silvi la contrada con le stella di Silvi da sempre senza illuminazione pubblica nel rete fognaria vedrà per la prima volta la luce ad opera del movimento civico Silvi Bellissima e della candidata sindaco Michele del candidato sindaco Michele Cassone la manifestazione prenderà il via questa sera alle ore 20 e 30 con un comitato elettorale in piazza Iris domani poi sarà la volta della biciclettata vera e propria la vera sorpresa arriverà alle ore 21 in Colle Stella con Michele Cassone di Silvi Bellissima insieme per Silvi che porteranno simbolicamente per la prima volta la luce in una contrada che non ha mai avuto né illuminazione pubblica né rete fognaria voltiamo pagina con il prossimo servizio in corso di svolgimento a Teramo l'Appennino Festival inaugurato oggi e che si chiuderà domani in servizio è cominciata è cominciata la due giorni dell'Appennino Festival qui presso il parco dell'istituto agrario di Piano Daccio a Teramo tanta gente tanti ragazzi nel villaggio del festival si è tenuto un convegno si cucina insomma si fa di tutto sì il programma è molto ricco è un programma ambizioso che tende diciamo a orientare la popolazione soprattutto cittadini ma anche i ragazzi come avete visto tanti tanti ragazzi per educarli a conoscere i nostri prodotti e i prodotti in generale come si riconosce la qualità e questo lo facciamo soprattutto domani con lo chef Tano ci saranno due sessioni dove Tano preparerà dei piatti con l'uso dell'olio d'oliva del nostro grande olio d'oliva abbiamo un olio veramente sono produttori che fanno veramente della buona qualità intanto i ragazzi che tra l'altro stanno passando qui accanto a noi oggi vanno stanno andando alla scoperta delle erbe mangerecce sì ci sono tante erbe spontanee che hanno che possono avere anche un ottimo utilizzo diciamo in cucina Cantoro la finalità precisa se ce n'è una sola di questa due giorni la finalità è orientare cittadini consumatori a conoscere i prodotti di qualità i prodotti quindi che sono del nostro territorio noi non possiamo competere quantitativamente e dal punto di vista economico del prezzo abbiamo prodotti di qualità e in quel versante in quella direzione dobbiamo lavorare per mantenere a crescere diciamo la competitività delle nostre aziende previsioni per oggi in Abruzzo al pomeriggio molto nuvoloso coperto con locali fenomeni temporaleschi nevicate al di sopra dei 1800 metri inserate nella notte variabile con deboli rovesci di pioggia sulle zone interne e sui rilievi poco nuvoloso sulle zone marittime temperature in aumento massime comprese tra 15 e 18 gradi nelle conche aquilane e marsicane tra 17 e 20 gradi sulle pianure adriatiche venti deboli settentrionali mare poco mosso mosso in provincia di Teramo nel pomeriggio generale peggioramento delle condizioni atmosferiche con possibilità di precipitazioni sparse anche a carattere temporalesco tra sera e notte miglioramento con schiarite graduali rasserenamenti temperature in aumento massime comprese tra 16 e 19 gradi nelle pianure dell'entroterra tra 17 e 20 gradi sulle coste venti deboli o moderati settentrionali mare poco mosso o mosso teramo calcio in apertura della pagina sportiva si dovrebbe tenere la prossima settimana all'incontro per il rinnovo del contratto di Luca Lulli per quanto riguarda il mercato in entrata si vanno difficili le piste che conducono a Di Michele Evacuo e Grassi che hanno molto mercato e guadagnano troppo per le casse del Teramo la società del patron Campitelli perciò starebbe valutando altre soluzioni tra queste Danilo Alessandro in scadenza di contratto con il Real Vicenza ed Antonio Montella svincolato dopo la retrocessione dell'Aprilia passiamo al campionato di eccellenza nel primo campionato regionale di calcio domani si gioca la finale play-out tra Acqua e Sapone e Virtus Cupello nel campionato di promozione invece sono in programma le finali play-off e play-out a proposito di questi impegni seguiamo il servizio la domenica degli spareggi tra eccellenza e promozione domani si consumeranno quasi tutte le sfide di fine stagione in attesa che l'Avezzano inizi la propria avventura nei play-off nazionali domenica prossima contro la San Giovannese l'altro unico incontro ancora da giocare nel torneo di eccellenza è il play-out tra Acqua e Sapone e Virtus Cupello che verrà disputato sul sintetico di Miglianico con inizio alle ore 16 la vincente conserverà la categoria la perdente scenderà nel campionato di promozione pescaresi che partono con i favori del pronostico alla luce della miglior posizione nella classifica finale del torneo nel torneo di promozione invece spazio ai play-off Paterno e Pontevomano si affronteranno sul campo di Città Sant'Angelo mentre Val di Sangro e Torrese saranno ospitate al Valle Anzuca di Francavilla al Mare le vincenti si affronteranno domenica 25 in campo neutro in palio ci sarà l'unico posto disponibile per il campionato di eccellenza sarà invece l'impianto di Silvi Marina ad ospitare la finale play-out tra Lauretum e Sant'Omero chi vince si salva chi perde retrocede in prima categoria bene con questo è proprio tutto vi ringrazio per la cortesa attenzione e vi rimando al prossimo appuntamento con il Tg Primo Piano di Teleponte questa sera alle ore 19.15 arrivederci a Grazie a tutti.